Terza sconfitta casalinga per l'Amen Scuola Baschettarezzo che subisce il blitz dell'Audax Carrara al Palasport Estra. Gli apuani si sono imposti per 69-65 grazie ai 27 punti messi a segno nell'ultimo periodo. A inizio partita ha osservato un minuto di raccoglimento in memoria di coach Pier Nicola Salerni, decano degli allenatori toscani scomparso in settimana. Nella sua carriera, oltre ad aver portato Firenze e Pistoglia in Serie A, ha anche una parentesi in panchina ad Arezzo in Serie D negli anni 70. Dopo un inizio promettente 11-4, l'Amen ha subito la reazione dell'Audax che pallone su pallone ha recuperato lo svantaggio chiedendo sotto di una sola lunghezza il primo quarto 15-14. Inizio shock per gli Amaranto nel secondo parziale, le triple di Viola propiziano il 15-0 con cui gli ospiti toccano il massimo vantaggio 29-15 al tredicesimo. Con pazienza gli Amaranto operano una rimonta, lavorando con attenzione in difesa all'intervallo lungo Carlaga si trova in vantaggio di un solo punto 31-30. La partita rimane equilibrata anche nella seconda parte, la Sba non riesce a cambiare marcia perché le troppe palle perse vanificano il sorpasso ed il mini allungo di fine terzo quarto. L'Audax opera il sorpasso a tre minuti dalla fine sfruttando una giocata da quattro punti di Viola, acquisito il vantaggio la squadra di Discepoli ha amministrato sfruttando gli errori aggettini. Gli ultimi secondi certificano la vittoria ospite che dalla lunetta con Menicocci cancella l'ultima speranza dell'Amen e di entrare in partita. Un risultato amaro che allunga la striscia negativa della Sba dopo la gara di Pescia, inutile sottolineare la necessità di invertire la rotta già dalla gara di sabato prossimo a Livorno. Si vince in 11, si perde in 11. Coach Peppe Delia, una partita che potevamo tranquillamente vincere, avevamo iniziato veramente bene, poi 10 punti di distacco, poi abbiamo recuperato. C'è qualcosa che non funziona in questa squadra? I risultati dicono questo, quindi sì, la risposta è sì, in questo momento finora abbiamo giocato delle ottime partite e delle pessime partite, questa la dobbiamo mettere tra le pessime partite. Abbiamo perso questa gara, abbiamo perso la gara con Costone in casa, abbiamo perso in malo modo, non è tanto il fatto di aver perso, ma abbiamo perso in malo modo a Pescia. Sono tre sconfitte che in questo momento sto facendo fatica sinceramente a spiegare in termini tecnici, tattici. Ci manca un po' di, non so, forse dispensieratezza, forse un po' di, come si dice dalle mie parti, un po' di cazzimma, un po' di, non voglia, perché la voglia i ragazzi ce la mettono, però quell'ardore che ti fa andare oltre l'ostacolo, oltre i limiti. Siamo una squadra che finché va tutto bene siamo perfetti. Quando c'è da superare delle difficoltà, come in questo momento, facciamo fatica, ma non è tanto la partita di oggi, è vedendo proprio la difficoltà che facciamo azione per azione durante una partita. Se riusciamo a fare due o tre canestri, se riusciamo a fare due o tre difese fatte bene, allora ci saltiamo. Nel momento in cui subiamo per due azioni di seguito canestro, la terza è sicuramente un canestro o un errore banale difensivo. Purtroppo mi dispiace, mi dispiace perché avevamo veramente lavorato come sempre, anche mettendoci qualcosina in più. Non è bastato, non sta bastando. Si dice che la ricetta migliore in questi momenti difficili è lavorare duro.